Tutto pronto a Ceciliano per domenica 17 aprile, una domenica scoppiettante e di solidarietà. Sì, grazie a quest'emittente che ci dà l'opportunità di fare un po' di reclame a questa manifestazione giunta alla sesta edizione, un'edizione che si preannuncia veramente interessante, non soltanto per la temperatura che sarà caldissima, estiva, ci dicono i meteorologi, ma anche per la gente che dovrebbe arrivare perché abbiamo veramente tanta roba e poi queste belle signore sono il calcita Ceciliano e il femminile in quanto sono loro le artefici di ogni cosa. A me mi tocca parlare perché nessuna si vuole esporre e io lo faccio malvolentieri. Direttore, sono benissimo direttore che la parola non mi si addice, comunque ringrazio veramente le donne, le signore di Ceciliano che stanno facendo tanto, è già un mese che si stanno preparando questo sesto mercatino e poi non c'è soltanto attrazioni merceologiche, ma ci saranno anche i soliti cinghialai, ci saranno sicuramente una bende particolare e poi ci saranno anche la mattina, l'inaugurazione sarà con i ragazzi delle scuole elementari di Ceciliano che canteranno dopo l'inno nazionale l'inno del calcite, con la banda del calcite ideata dal calcite tre anni fa, quindi una giornata che si preannuncia interessante, ci sarà anche la sfilata folcloristica del girasole, sarà aglietata anche da Beppe Marconi, Marconi e Marco e Giuseppe, Beppe e Marco al Karaoke e poi ci sarà anche un'altra presenza nel pomeriggio, importante e che la vedrete sicuramente, chi vorrà vedere verrà.